primo inizio uno due tre quattro ancora uno due tre quattro questo è già su ok questo ora prima è metto sotto l'olio lì uno due stare lontani fanno lui si ha subito il corpo ma fa questo ok 1 2 qui comunque ci si ferma fatto questo se non posso questo non vieni devo postare questo fatto questo vieni un'altra volta hai doppio o sinistro gancho doppio pan eccolo qua io sono andato via ora io c'è il progettato di A non dove lui c'ha le possibilità di andare d'acqua io da qua lui fa solo un vetro uno quando è qui molto in piedi uno pan ora non mi importa non mi importa questo lui così ad esempio come quando si fa eh take the shot down che si l'ha capito che c'è questo no pan così ad esempio lui mette la guardia ad esempio mettiamo lui fa un pugno qua eh se sta corretto fa così questo mi cazzurini lì non è buono perché lui probabilmente è protetto qui il massimo l'espressione di questo movimento mettiamo le mani in posizione è questa io vado avanti la testa sua la mando di là contemporaneamente ho questo contemporaneamente ho questo lui fa fanno di qua così io potrei così fino a qui ora fino a fortissima distanza tu ne ho volto vediamo un po' di lui e ora lo sluscio lui non posso andare a fare questo e lui prendo prendo così questo più 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 uno lo voglio già fare perché lo devo andare lì due c'è lo studio dell'altra marziale del bicep quindi questo uno questo da qua due da qui e ok vediamolo piano verso l'interno verso l'interno pan quinto pan palmo io chiuso palmo io aperto questo pan partendo da qua tun pan sinistro pan dentro lì dato pan uno due frontale frontale qui questo qui no? perché quando lui fa caccio frontale io sono qui ora se io vado attaccare questo braccio è troppo pericoloso anche meno da dietro però si considera che non ci sia quando io sono qui controllo se io vado questo è pericoloso lui sbraccia no perché mi vede aperto e vuole fare l'attacco questo questo prima destra e sinistra qui ora al mostro le lezioni c'è più persone che non si può fare questo pan questo pan vediamo verso l'interno qui uno due prima uno due tre pan qui pan palmo dita ok la persona scusa andiamo a montare comunque qui se io non ce la posso fare cambia mia gamba ok vai cambia mia gamba di guardia ok questo che conta è questo questo è il spostamento questo è come quello di prima pan controllo ancora tum qui 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 qui